Ebbene sì ragazzi, buongiorno. Il calcio anche in settimane molto ricche di appuntamenti e di eventi come questa può attendere. O quantomeno può essere lo strumento per dare forza alle persone che stanno lottando per ottenere altri traguardi, altri risultati come ad esempio rimanere in vita. Il caso di Niccolò Maia. Niccolò Maia ha 23 anni e in coma. La sua famiglia è stata travolta da una strage familiare, da una tragedia familiare. La mamma e la sorella hanno perso la vita, lui è in coma e si sta battendo il ragazzo, sta lottando. Il nonno è al suo fianco e io mi auguro naturalmente che tutto vada per il meglio anche grazie al contributo dei medici e grazie al buon Dio che possa davvero lasciare in vita questo ragazzo di 23 anni. A Niccolò Maia ha voluto dedicare un pensiero Stefano Pioli e tutto il Milan, tutti i giocatori, nessuno è escluso. Settimana importante dal punto di vista calcistico, sportivo, settimana ovattata per il Milan che tiene ferme le sue abitudini. È una settimana come molte altre settimane della stagione, come tutte le settimane della stagione. Non cambia nulla, però se si può fare qualcosa per Niccolò lo si fa. E allora forza Niccolò, sta attraversando un momento delicato ma puoi farcele e ce la farai. È un forza Niccolò forte e chiaro quello che Stefano Pioli e tutti i giocatori del Milan hanno voluto inviare al ragazzo di Samarate in provincia di Varese, la stessa provincia a cui fa capo sul Biatearno, Carnago, Milanello, in queste ore così importanti. E naturalmente anche da tutti noi va un abbraccio a Niccolò. C'è un altro, Niccolò è un grande tifoso rossoneo, forza Milan e forza Niccolò. C'è un altro ragazzo che purtroppo non ce l'ha fatta, fra poco ne parleremo. Lasciatemi intanto proporre i contenuti di OneFootball. OneFootball vi è da molto, se voi scaricate l'app, l'app di OneFootball è gratuita, la trovate nella descrizione di questo video, c'è il link, news, approfondimenti, curiosità, video, highlights, partite. L'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball vi aspetta. Quello che ha aspettato purtroppo Dimitri Roveri invece è stato un tragico appuntamento col destino. Anche lui come Niccolò Maia, grandi tifosi del Milan. Dimitri Roveri stava giocando a pallone, calcio amatori, 27 anni. 27 anni e per un malore si è accasciato, portato al San Raffaele di Milano con l'elisoccorso non ce l'ha fatta. Dimitri Roveri è un grande tifoso del Milan, avrebbe voluto esserci a Milano-Atalanta di domenica alle 18. Quindi noi tutti dovremmo fargli un pensiero e se succederà qualcosa di bello, di gioioso, sarebbe importantissimo dedicarlo anche a lui, anche a Dimitri. Dimitri è di Quingentola, in provincia di Mantua, ma stava giocando proprio nel Mantovano e non c'è stato niente da fare. Malore, 27 anni, l'addio alla vita. Amava il Milan come lo ama Niccolò e quindi l'augurio è davvero che la prima linea del cuore, la prima linea dell'affetto abbiala meglio, anche nella vicenda di Niccolò, anche per mandare un messaggio lassù a Dimitri. Sono storie che non dobbiamo mai perdere di vista, sono vicende umane che non dobbiamo mai perdere di vista perché il calcio è importante, il calcio ci fa battere il cuore, il calcio ci emoziona, il calcio ci fa litigare, il calcio ci fa venire voglia di fare tante cose, però alla fine ci sono sempre cose più importanti. Cose più importanti che poi riconducono al calcio, non è che il calcio non conti nulla, il calcio è importante perché ad esempio per il nonno di Niccolò Maia è importante avvicinare all'orecchio di Niccolò la voce di Stefano Pioli, la voce dei suoi idoli, dei suoi giocatori, di tutto il Milan. Quindi sono cose molto belle, sono cose molto importanti che dobbiamo tenerci strette, che dobbiamo coltivare, che dobbiamo innaffiare. Poi c'è il calcio, poi c'è la settimana, poi ci sono tutti i temi, chi non salta è rosso-nero è stata la colonna solora della Coppa Italia vinta dall'Inter. Siamo sempre protagonisti noi ragazzi, alla fine si parla sempre di noi. Per dare un senso a una vittoria, chi non salta è rosso-nero. Va bene, se fa piacere, fa piacere. Tanto alla fine siamo sempre protagonisti noi, perché poi dare troppo spazio all'avversario quando si vince significa di fatto invitarlo alla festa. Non lo so se il Milan vincerà qualcosa o no in questa stagione, però a me piace festeggiare fra milanisti, non con altri tifosi. Quindi vedremo insomma, vedremo come andrà. e certamente abbiamo visto, abbiamo notato, senza nervosismi, senza distrarci, perché un po' è tutta la settimana che cercano di... il derby più importante è quello d'Italia, ma poi penseremo al Milan, e chi non salta, eccetera, 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 è tutta la settimana che è. Ma il Milan, non, a bocca, il Milan tira dritto, il Milan fa la sua settimana, lo scriveva molto bene Repubblica questa mattina, Franco Vanni che scriveva, il Milan fa la sua settimana ovattata di sempre. Riposo il martedì, tre allenamenti, mercoledì, giovedì e venerdì, e poi la rifinitura del sabato, e il ritiro, in un noto hotel milanese vicino allo Stato, insomma, la solita settimana rossonera, dopo un veloce richiamo di lavoro il lunedì dopo la partita. Per cui, insomma, c'è grande attenzione da parte nostra, leggo sul Corriere della Sera Carlo Spasserini che scrive di un'Ibra sempre molto al centro, sempre molto attento, sempre molto leader, chi lo frequenta da vicino dice che è molto carico, la media punti di Pioli è sottolineata dal Corriere dello Sport Stadio, più alta di quella di Carlo Ancelotti di Nero Eurocco, media punti in partita del Milan, seconda solo a quella di Fabio Capello, e Fabio Capello ha vinto 4 squadri in 5 anni, di punti ne aveva fatti tanti. Poi ci sono naturalmente tutte le fibrillazioni sulla trattativa societaria, io capisco ed è giusto che i grandi giornali si occupino di grandi questioni. Però ragazzi, oggi richiamare l'attenzione del Milan, del tifoso del Milan, alla lettura, o facendo clic o acquistando il giornale, è difficile, cioè con la trattativa per l'eventuale cambio societario, cioè nella testa del milanista non c'è spazio, non c'è posto in questa settimana per questi pensieri. Quindi non lo so, poi vedremo come andrà a finire. Ieri ho avuto modo di avere al mio fianco ed è stata un'esperienza molto bella, ma soprattutto si è offerto lui, l'abbiamo offerto, a tutti i tifosi del Milan, Ivan Gazidis, che voleva ringraziare i tifosi del Milan sulla live twitch di AC Milan, ha ringraziato tutti i tifosi per la loro presenza, da domenica un milione di presenze alle partite del Milan ufficiali in questa stagione, nonostante, lo ricordo sempre, le due gare ravvicinate Milan Spezia e Milan Juve in cui abbiamo avuto solo 5 mila spettatori, solo noi, due partite con 5 mila spettatori, solo noi, come sempre in questa stagione, come ogni cosa in questa stagione. Però un milione di presenze, calcolava Ivan Gazidis che sono 192 i paesi con tifosi del Milan che arrivavano da vari paesi del mondo rappresentati allo stadio quest'anno, quindi l'inclusività. Ci saranno 10 mila milanisti provenienti dall'estero, domenica per Milan-Atalanta, insomma ci sarà una partecipazione di tifosi, Gazidis ha voluto ringraziarli perché anche in trasferta al freddo di notte e di giorno ci sono sempre stati e quindi è il senso proprio dell'insieme, dell'inclusività e quindi alla luce di quello che ieri ci ha detto Ivan Gazidis mi è sembrato molto giusto e molto opportuno oggi aprire la chiacchierata con voi parlando di Nicolò e parlando di Dimitri. Se per Dimitri purtroppo non possiamo fare più nulla se non provare a regalargli una gioia da qua giù, per Nicolò possiamo fare ancora molto e speriamo di avere qualcosa da dedicargli. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo e ci sentiamo nel pomeriggio dove parleremo di statistiche arbitrali più tardi.